Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Oggi, dato che ho sperimentato fino in fondo il DLC Second Assault, vorrei parlarvene e recensirlo dal punto di vista di un giocatore. Sicuramente c'è da premettere che le mappe che ci vengono proposte, o meglio riproposte, in questa espansione, sono fra le migliori dello scorso capitolo, Battlefield 3. Noi giocatori quindi già conosciamo queste mappe e piuttosto che le mappe stesse è più opportuno criticare la scelta di queste. Le mappe che ci vengono riproposte sono Operazione Metro, Operazione Firestorm, Confine sul Caspio e Golfo di Oman, che, benché siano state cambiate superficialmente e sotto variati punti di vista, migliorate, restano in sostanza uguali ai loro predecessori Battlefield 3 style. Personalmente, sono d'accordissimo con le mappe scelte da DICE. Abbiamo la claustrofobica Metro e tre mappe d'elite per conquista grande. Non ho quindi nessuna critica da esporre riguardo a questa scelta. Se invece volgiamo il nostro sguardo alle armi, benché non sia un gran fan dell'F2000 su Battlefield 4, sono stato contentissimo di ritrovare l'ASVAL, che non ci ha messo molto a entrare nella mia bacheca delle armi preferite, e l'M60, un'ottima arma per il supporto, oltre al DAO 12 e al Gol Magnum, armi particolarmente divertenti da usare. Fin qui, niente da criticare. La questione, però, sfortunatamente, cambia se parliamo della modalità di gioco introdotta. Si tratta di cattura la bandiera. Sono stato un grande fan di cattura la bandiera su Battlefield 3, ma su Battlefield 4 ci ritroviamo a giocare a questa modalità su mappe non studiate per questa modalità. Su Operazione Metro è ingiocabile e sulle altre mappe risulta, a mia opinione, quasi noiosa. Quindi, questa scelta è leggermente criticabile. Non saprei che altre modalità di gioco introdurre, ma penso quasi che le modalità di gioco, a questo punto, siano quasi superfluo, e dato che, a mio parere, ce ne sono quasi troppe. Ora, per concludere questo video, voglio consigliarvi per ogni mappa una specifica modalità particolarmente adatta, particolarmente divertente. Quindi, partiamo con Operazione Metro. Dato la presenza di esplosivi e di troppi giocatori, davvero, davvero troppi giocatori, vi consiglio, su Operazione Metro, di giocare a Corsa, per godervela proprio al massimo. Sfruttarla fino in fondo, perché su Corsa è una mappa davvero, davvero bella. Su Confini Sul Caspio, quella mappa, cioè, ragazzi, è stupenda su Conquista, sia a piedi che dentro un veicolo, dentro un tank. Quindi, qui, vi consiglio Conquista, e lo stesso vale per Operazione Firestorm, anche se, devo dire, che questa mappa splende anche in Corsa, è davvero divertente. Invece, su Golfo di Oman, di nuovo, ci ritroviamo nella situazione che Conquista resta una mappa di prima scelta, data la sua versatilità, diciamo, perché nella parte della città potremo correre in giro con la fanteria, mentre nella parte inferiore della mappa, nel deserto, possiamo usare i veicoli quanto più ci piace. E, c'è anche da aggiungere che questa mappa è davvero molto bella, anche su Dominio e Deadmatch a Squadroni, dato che si ambienta nella parte cittadina, ed è quasi come giocare a Corsa. Un'ultima cosa da aggiungere, è che, secondo me, un'ultima critica, piccola critica, è che, secondo me, la modalità Dominio e Deadmatch a Squadroni è un filino gestita male su queste mappe, perché, infatti, giocare, ad esempio, su Confini Sul Caspio, a Dominio, è quasi come giocare a Conquista, soltanto con pochi giocatori. Quindi, le mappe su Conquista, su Dominio e su Deadmatch a Squadroni, sono, a mio parere, un pochettino troppo ampie. Con questo è tutto per questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Vi ricordo di lasciare un like, di condividere questo video con i vostri amici, e, perché no, di lasciare un commento dicendovi la vostra opinione. Ditemi qual è il vostro DLC preferito, e cosa vi è piaciuto e non vi è piaciuto di questo DLC Second Assault. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao! Ciao! Ciao!